Sveglia le 7, super caffè d'obbligo e scelta dell'outfit per andare in palestra, sapete che questo è uno step molto importante. Dopodiché prendo la mia integrazione, mi do una bella sistemata che ecco stamattina ce n'era bisogno e vado in palestra rigorosamente in bicicletta. Oggi mi aspetta un allenamento di gambe e glutei, quindi incomincio lavorando sui fondamentali e poi finisco con un pochettino di addominali che fa sempre bene e io distrutta e soprattutto accaldata. Quindi torno a casa e fortunatamente il mio porridge era già pronto, dovevo soltanto guarnirlo.